Stefano Bettarini dopo la squalifica tuona contro il GF VIP, espulso dopo soli tre giorni trascorsi nella casa per un'espressione ritenuta blasfema, l'ex calciatore non nasconde la sua rabbia. Prima era apparso accomodante e comprensivo, ad Alfonso Signorini in studio aveva mostrato il suo rammarico per le parole pronunciate e si era scusato, ora però cambia registro in un post social sottolinea. Cacciato per un'espressione colorita per un'uscita di quelle un po' eccessive e chiassose come spesso siamo noi toscani, espulso per una parolaccia non ho bestemmiato, non l'ho mai fatto e non lo farei mai. Trovo perciò sproporzionata la sanzione e dopo 21 giorni di quarantenne e 5 tamponi mi sento preso in giro. Infine il 48enne si scaglia contro il GF VIP, mi sento la pedina di un gioco al rialzo dello share.